buongiorno e bentrovati buona domenica 21 aprile è la quarta domenica di pasqua tradizionalmente detta domenica del buon pastore ed è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ecco il vangelo di oggi lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo il signore gesù disse ai giudei le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le strapperà dalla mia mano il padre mio che me la date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre io e il padre siamo una cosa sola parola del signore nel capitolo 10 di giovanni gesù parla di sé come del buon pastore di per sé un brano precedente quello oggi proclamato e dice che il buon pastore conosce le sue pecore e questa conoscenza così profonda come quella che unisce lui al padre e ancora aggiunge che il buon pastore dona la sua vita per le pecore gesù dona se stesso per salvarci e continuando questo tema in un contesto diverso siamo nel contesto della dedicazione di inverno gesù nel tempio parlando ai giudei su avversari dice le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono vi è un rapporto profondo tra gesù e i suoi discepoli noi siamo il suo greggio egli è il buon pastore ma veramente conosciamo gesù così in profondità ascoltano la mia voce che non è solo sentire ma è mettere in pratica questa conoscenza il signore certamente ci conosce profondamente ma noi lo conosciamo profondamente lo seguiamo se veramente lo conosciamo vuol dire che lo seguiamo che lo imitiamo che ci lasciamo guidare della grazia che conformiamo la nostra vita alla sua allora se così facciamo abbiamo la certezza di ricevere da lui il dono della vita eterna io da loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano come bella questa comunione che nel signore che nessuno può distruggere invece l'apostolo paolo né morte né vita né alcun'altra creatura potranno mai separarci dall'amore di dio in cristo gesù nostro signore e allora contempliamo l'amore di gesù buon pastore e chiediamo la grazia di conformarci sempre a lui e cari fratelli e sorelle vi chiedo una preghiera per i pastori perché possiamo essere sempre fedeli a questo dono di vita e essere a servizio della fede del popolo di dio con tutta la nostra esistenza conformato conformando il nostro modo di vivere di pensare e di amare al modo di vivere di pensare di amare di cristo e preghiamo per le vocazioni certo ogni vita cristiana è vocazione ma preghiamo per le vocazioni di speciale consacrazione e per le vocazioni sacerdotali tanto ne abbiamo bisogno ma occorre che attraverso la santità dei fedeli e la risposta zelante gioiosa di ciascuno alla propria vocazione si crea un contesto bello in cui i giovani possono riscoprire anzitutto la gioia della fede ed in secondo luogo la gioia per rispondere a dio che chiama donando a lui tutta la vita buona domenica sia lodato gesù cristo buona domenica sia lodato gesù cristo ringrazio